Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video, sono Efremano e amici miei, oggi siamo ritornati su Clash Royale Ragazzi siamo qui con i risultati della stagione, bensì ragazzi è novembre quindi il nuovo pass si è aggiornato Quindi ci sarà un nuovo pass, oggi lo andremo a vedere insieme, a quanto pare come stiamo vedendo c'è anche una nuova arena Sicuramente sarà quella dei campioni, comunque ragazzi qui abbiamo 1500 monete a trattare gratis, voglio riscattare tutto con voi Allora ragazzi andiamo a vedere la prima carta potenziata per questa season quindi per tutto novembre e abbiamo le reclute royale Ragazzi va bene ci può anche stare, ci può anche stare ragazzi, comunque ragazzi in questo video io vi chiedo almeno un bel pollicione in su ragazzi Mi raccomando e se non lo avete ancora fatto iscritti al canale e se non siete ancora iscritti Allora ragazzi andiamo a riscattare prima di tutto le nostre ricompense, abbiamo 250 jolly comuni, mi può anche andare bene, un gettone epico non è per niente male E abbiamo anche dei jolly rari e 5000 monete d'oro, sono veramente ottime Ragazzi noi eravamo arrivati nella scorsa stagione a sfidante 3 raga, un totale di 5680 trofei, mancava poco per quelle gemme Comunque ragazzi pazienza, nessun problema, abbiamo anche il baule del terzo posto, perfetto Ci è andata male questa guerra, comunque ragazzi direi anche di andarlo ad aprire insieme Abbiamo, non ci sarà la leggendaria ma dettagli, non importa, non importa A quanto pare ci hanno arati, ma vabbè raga non importa, non importa, andremo meglio sicuramente in questa nuova guerra Allora ragazzi sono arrivati i campioni stagione di novembre raga, allora ragazzi qui abbiamo già subito le prime 1000 monete gratis per tutti Ragazzi andiamo a vedere se il pass contiene roba di figo Allora ragazzi abbiamo già come sempre raga al quinto livello il libro dei libri leggendario raga Abbiamo anche la nuova skin delle torri, è veramente molto molto bella Ragazzi non lo so se acquisterò il pass, vedremo Qui abbiamo anche un emote, andiamo a vedere se ce la fa sentire raga Ok raga non ce la fa sentire, la sentiremo dopo tramite un modo che so io Attenzione ragazzi come immaginavo a livello 30 raga ci sarà un baule di quelli belli, ma veramente belli raga Cioè ed è gratis raga, è gratis per tutti Come potete vedere già possiamo ottenere 9500 di ore e 271 di carte raga Non è per niente male, ovviamente contiene anche i jolly garantiti raga, ottimo E forse potrebbe anche contenere una leggendaria E ovviamente ragazzi che sono a livello re 14 Da questo baule raga ci sarà la certezza di ricevere un campione gratuito Perfetto raga, cioè non è per niente male questo pass, è veramente ottimo Ottimo, ottimo, vabbè 34 e 35 le solite ricompense E va bene, va bene raga andiamo a vedere quindi il sound dell'emoto Vediamo raga sentiamo insieme Ok raga un piccolo sound si sente Non è che sia bellissimo ma vabbè ci può anche stare bene Allora ragazzi vediamo qui cosa c'è Ovviamente io non posso dare le pirotecniche raga 650 di gold raga, ciò significa che qualcun altro avrà pure sciopato il pass? No, va bene come non detto, come non detto Allora andiamo a richiedere anche un po' di carte Ragazzi ora ci andiamo a fare anche una bella partita Manca poco raga e penso che vi porterò anche il video sul canale Della sfida del re degli arcieri Del re, della regina degli arcieri raga Fatemi sapere se volete i gameplay su questo nuovo torneo raga Andremo a sbloccare insieme questa ricompensa raga Quindi fatemelo sapere qua sotto tra i commenti Abbiamo anche un baule d'oro direi di aprire Questo baule leggendario amici miei lo terrò per un video speciale Non vi preoccupate Ragazzi oggi ci andiamo a fare una bella partita Già subito nell'arena dei campioni Ma voglio potenziare insieme a voi Mi sto tenendo queste monete da 4 giorni Immaginate la mia sofferenza Voglio portarmi insieme a voi La principessa di livello 13 raga Voglio fare questo potenziamento insieme a voi Quindi riceveremo ovviamente 1600 e 1600 Non importa Ragazzi come potete vedere abbiamo portato la nostra queen Queen vabbè principessa A livello 13 raga Per niente per niente male Abbiamo ricevuto anche 1600 E ovviamente 1600 anche di questi qua Per niente male ragazzi Ovviamente anche vedo l'ora di portare anche a livello 14 il gran cavaliere Vi farò anche un video speciale Comunque ragazzi andiamo a farci un bel gameplay Anche una partita raga può anche andarci bene Anche perché non posso registrare veramente tanto Purtroppo con il mio cellulare Comunque lui già subito ci attacca con la principessa di livello 13 raga Quindi ce l'avrà anche lui Attenzione Allora raga vediamo Mettiamo il nostro moschettiere livello 13 e anche noi raga abbiamo la nostra principessa di livello 13 Allora ragazzi vediamo un po' Facciamo una cosa raga mettiamo la nostra principessa dal lato di destra Vediamo lui cosa ci butterà Vabbè ci ha buttato le frecce raga pazienza Il nostro bombarolo raga ha fatto il suo lavoro E adesso raga tocca al tronco fare il suo lavoro Perfetto raga perfetto perfetto Sperando anche che non mi lagga il cellulare raga perché ho un cellulare veramente orribile E vi chiedo anche scusa Comunque cerco di portarvi i video meglio possibile Allora ragazzi stiamo combattendo contro un nome che non riesco e non riuscirò mai a leggere credo Allora vediamo un po' se la pirotecnica ce lo va ad eliminare Perfetto ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Siamo in svantaggio Ok Allora Ok perfetto perfetto Parte un po' di lag Vabbè facciamo una cosa Buttiamolo raga Perfetto la nostra principessa vincerà Per niente male purtroppo però non ha tirato un hit Andiamo con la valchiria Ok lui mi ributta il tronco Va bene pazienza Ok L'ho presa del culo raga l'ho presa del culo E' riuscito a fregarmi raga Comunque vediamo ora manca poco avremo il per 2 Comunque si ragazzi siamo nell'arena 7 praticamente Stanno ciclando tutte le arene Potrebbero anche farne di nuovo Ma la supercell penso che si secca Allora ragazzi Vabbè dai L'arena dei campioni Chiamiamola così Allora Andiamo subito con la valchiria Lui mette una tesla Molto molto cattiva Però adesso raga io direi di attaccare con il gran cavaliere Ok Lei mette la principessa di là Ok Buttiamo questo tronco raga Anche se lui adesso Vabbè lo sappiamo tutti Ci butterà il barile goblin Credo che la perdo raga È la prima partita che faccio Sto provando tutto insieme a voi Anche perché non posso fare tagli Il mio telefono va anche lento Quindi vabbè Sia una partita veramente orrenda Però ragazzi Voglio provare a fare una cosa Cioè Intanto facciamo così Abbiamo 579 di vita Non credo mai Poi mai di farcela Però facciamo una cosa raga Mettiamo una valchiria qui dietro Moschettiere Perfetto Non abbiamo ricevuto dei danni Perfetto Quella razza è bruttissima raga Quindi Le cose sono due amici miei O attacchiamo adesso O non vinciamo più Potrebbe avere le frecce E già vincere la sua partita Ok Ha vinto Va bene raga Va bene Io credo che Però se non avesse avuto le frecce Con questo attacco raga Che stavo per fare Secondo me Potevo portarmela a casa raga Secondo me potevo portarmela a casa Vabbè ragazzi Non è Non è Non è stato anche un video Veramente di quelli Eccezionali Però Vi chiedo anche scusa Nel frattempo Però ragazzi Almeno abbiamo provato La nostra principessa Di livello 13 Ragazzi La partita Ci è andata un pochettino Di sfiga Vabbè Nessun problema Pazienza Mi raccomando ragazzi Se non avete ancora fatto Fate l'aggiornamento E livellatevi il vostro pass royale Ragazzi Ci sono ovviamente tantissime ricompense E se potete farlo Ragazzi Potete anche shopperlo Ragazzi Se ve lo potete permettere Ovviamente Comunque ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto È stato così Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E io purtroppo Più di così Non posso registrare Altrimenti Vi avrei portato Altre partite Mi scuso ancora È una prima registrazione Che sto facendo Però dai raga Almeno Vi ho portato Un bel po' Di bauli Ad aprire E anche Ci siamo potenziati Almeno La nostra principessa Di livello 13 Ragazzi Abbiamo Tutto il deck Livello 13 No Non è vero Ragazzi Il tronco No Va bene Vabbè dai Per niente male Per niente male Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Noi ci becchiamo Al prossimo video Di Clash Royale Raga Io direi Che ci possiamo Anche vedere Tranquillamente Con la sfida Della regina Degli arcieri Raga Speriamo Di sbloccare Anche quelle moto Veramente Molto molto bella Io vi saluto Da vostro Muno di quartiere Come al solito È tutto Ragazzi Ci becchiamo Alla prossima Bella